buongiorno a tutti questo è un video tutorial che riguarda la compilazione della domanda di richiesta per la ricostruzione della carriera una volta entrati su istanze online nella voce istanze scendendo si arriva al modulo della richiesta di ricostruzione della carriera chi è che deve compilare questa richiesta devono compilare la richiesta di ricostruzione della carriera i docenti neoassunti nel 2022 2023 e che in questo anno scolastico abbiano svolto l'anno di prova e dunque dall 1 settembre 2023 si trovano con un contratto a tempo indeterminato con anno di prova superato dunque di ruolo a tutti gli effetti costoro possono ricostruire la carriera cioè significa possono dichiarare tutti gli anni di precariato anni scolastici i completi cioè di almeno 180 giorni o in alternativa anni scolastici di un intero secondo quasi messe dall 1 febbraio fino al giorno degli scrutini per poter ricostruire e far valere questo anno come progressione di carriera in pratica chi fa la ricostruzione di carriera viene inquadrato nella classe stipendiale reale che gli spetta poi faremo vedere in altri video tutorial quali sono le classi stipendiali dei docenti o anche del personale ata intanto vediamo come devono ricostruire queste persone questi docenti e la fare la ricostruzione della carriera intanto devono aver già nell'anno magari precedente aver fatto la dichiarazione dei servizi e dunque aver compilato la dichiarazione dei servizi se questo non fosse stato vi invitiamo a fare la compilazione della dichiarazione dei servizi perché serve per la ricostruzione della carriera dopodiché si va alla compilazione della ricostruzione della carriera e si entra in una pagina dove c'è lo stato di questa domanda che per esempio adesso è in bozza e non è ancora inoltrata per cui si vuole sottolineare all'attenzione dei nostri lettori l'importanza di inviare lo stato deve essere domanda inoltrata c'è un messaggio di attenzione è importante ai fini della compilazione dell'istanza leggere attentamente prima di procedere la presente istanza destinata al personale immesso il ruolo che abbia superato l'anno di prova consente di richiedere il riconoscimento dei servizi validi prestati anteriormente alla nomina nell'attuale ruolo dunque non si deve dichiarare questo si vuole sottolineare l'anno scolastico 22 23 anche se stato anno di prova era anno di ruolo facendo avanti si entrerà in una pagina in lana grafica e facendo avanti ancora si entra proprio nella compilazione della domanda quindi si entra in questa pagina nella pagina precedente quella della grafica si consiglia attentamente di controllare di tutti i dati anagrafici che siano corretti e se si dovesse trovare qualche errore si deve contattare l'ufficio scolastico proprio per modificare gli errori esistenti dunque segnalare in caso di errore a questo punto la domanda praticamente volge verso il termine perché si chiede ai sensi delle vigenti disposizioni legge contrattuali il riconoscimento dei servizi prestati cioè nella dichiarazione dei servizi che vi dicevo prima e dunque di dire se ha già presentato la dichiarazione dei servizi e spero una domanda pienamente corretta e già dunque procedibile si consiglia di fare la dichiarazione dei servizi e poi cliccare su questo tasto piuttosto che su questo facendo così poi cliccando nella voce avanti quindi per completare la domanda si inserisce in questo di quadro il codice personale delle istanze online che appunto dovete possedere per fare la domanda e con il tasto inoltre la domanda verrà inoltrata all'ufficio di segreteria della scuola di titolarità o comunque della scuola dove prestate servizio che si occuperà del controllo dei dati dichiarati speriamo che questo video tutorial sia di vostro gradimento e soprattutto utile per poter presentare questa istanza grazie e arrivederci